Nei primi mesi del 2018 Andriani ha aderito al Global Compact dell'ONU, iniziativa strategica della cittadinanza d'impresa con l'obiettivo di promuovere un'economia globale e sostenibile. Gli impegni assunti dalla nostra azienda con l'adesione al Global Compact sono quello di integrare i principi del Global Compact nella cultura e nelle attività aziendali, diffondere e promuovere il Global Compact e la sua strategia e rendicontare annualmente ai propri stakeholder i progressi registrati in termini di applicazione dei principi dei diritti umani, tutela dell'ambiente, lotta alla corruzione e standard lavorativi. Grazie per la visione!